Ho scelto di aderire alla campagna Nordi for Europe perché noi giovani non abbiamo impiego, la disoccupazione avanza in tutta Europa e dobbiamo cambiare, dobbiamo fare qualcosa. In che maniera? Destinando a 400 miliardi di euro l'occupazione, lo sviluppo, la ricerca e il lavoro. Perché è il lavoro che ci manca ed è solo l'Europa il nostro futuro.